Ospiti di rilevanza nazionale per la prima edizione dell'Oscar del Libro di Trani. La cultura continua ad avere un suo posto speciale nella Perla dell'Adriatico, in cui si è tenuta la manifestazione organizzata dalla conduttrice televisiva Manila Gorio, affiancata nella conduzione da uno dei voti storici e più noti del giornalismo italiano. L'ancormen Attilio Romita, ex conduttore del TG1, è fresco di un'esperienza non convenzionale come partecipante al Grande Fratello. Ho avuto qualche difficoltà, perché quella è una trasmissione particolare in cui tutti concorrono per vincere, io cercavo di fare il mio, ci sono riuscito per cinque mesi e questo già mi soddisfa. Dopodiché ho fatto il giornalista, il giornalista ha il dovere di produrre informazione, dare notizie, ovviamente sapendo quello che dice. Un periodo d'oro per questo inizio di bella stagione, abbiamo i dialoghi, c'è stata la festa di RAI Radio 3, la festa nazionale, oggi questo Oscar del Libro, ma ogni giorno ci saranno eventi importanti in questa estate tranese. Tanti temi toccati dagli autori premiati, tra cui un ruolo da protagonista ha avuto la recente esperienza della pandemia da Covid, permettendo una lucida riflessione su cosa ha funzionato e su cosa è ancora da migliorare. Purtroppo nel momento dell'emergenza c'è stata un'infodemia, un eccesso di informazioni, spesso non da sorgenti serie e affidabili, e spero che questo sia l'insegnamento per il futuro. La scrittura si conferma un importante strumento per far conoscere i territori, come è successo per il romanzo di Gabriella Genisi, trasformato poi nella serie RAI le indagini di Lolita Lobosco, che ha permesso al pubblico del grande schermo di vivere Bari anche da casa. Sono naturalmente contenta che questo personaggio poi abbia incontrato il favore del grande pubblico, perché la televisione ti dà poi la visibilità al grande pubblico, i lettori in Italia non sono tantissimi, lo sappiamo, e soprattutto abbia fatto anche conoscere in Italia la bellezza di Bari, che veniva percepita come una città anche pericolosa. Grande spazio anche alla satira, sempre di più elemento caratterizzante del dibattito politico. diversi canali in cui viene declinata oggi, da quelli storici come la tv, ai social, in cui sempre maggiore spazio hanno conquistato i meme. Ci siamo divertiti a raccontare la nostra società vedendola come degli zombie. partendo, io sono partito da me stesso, perché sono il primo zombie che ha mille cose che non vanno, e quindi questo libro è un po' un, come dire, una specie di Prozac, ecco, dell'anima. Mi è servito proprio per capire tutte le cose che non vanno e cercare, in un certo qual modo, di dezombizzarci. Non solo narrativa, salute e satira, tra i temi premiati con l'importante riconoscimento dell'Oscar del Libro di Trani, che si configura già come un appuntamento da riproporre ogni anno, ma anche temi scottanti come la giustizia, con Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha parlato dell'influenza delle lobby e delle correnti tra i giudici. L'obiettivo finale è quello di, in qualche modo, consentire a tutti, anche quelli che non fanno parte di questo mondo, di capire come nel mondo della magistratura, da un lato, ci sia questo problema legato alla correntocrazia, cioè alle correnti che cercano, in qualche modo, di gestire tutta la vita della magistratura, e dall'altro di smascherare quelle millanterie che spesso questi personaggi che fanno parte di questo dark side pongono in essere per penetrare il mondo dell'istituzione.